Care concittadine, cari concittadini, il 27 settembre 2020 saranno chiamati a votare per decidere se vogliamo aumentare due delle attuali deduzioni per i figli nell'ambito dell'imposta federale diretta. Un aumento riguarda la deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi. Se oggi i vostri figli sono curati da terzi, ad esempio in un asilo nido, potete dedurre dall'imposta federale diretta fino ad un importo massimo di 10.100 franchi l'anno per ogni figlio. Questa situazione può spingere i genitori, per ragioni fiscali, a ridurre la propria attività professionale o a rinunciarvi del tutto. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono portare questa deduzione ad un importo massimo da 25.000 franchi l'anno per figlio. Ciò offrirebbe alle famiglie un maggior margine di manovra per dedurre dalle imposte le spese effettive per la cura dei figli. Di conseguenza, per i genitori sarebbe fiscalmente più interessante esercitare un'attività professionale. Diventerebbe più attrattivo conciliare la vita familiare con la vita professionale e sarebbe possibile ridurre la carenza di personale specializzato. Un altro aumento riguarda la deduzione generale per i figli. Poiché i costi per i figli sono generalmente elevati, il Parlamento intende aumentare la deduzione generale per i figli dagli attuali 6.500 franchi a 10.000 franchi l'anno per figlio. Questa misura è volta a scravare maggiormente le famiglie, a prescindere dal fatto che curino i propri figli o l'abbiano in parte affidata a terzi. Questo aumento è per le famiglie che pagano l'imposta federale diretta, attualmente circa il 60% delle famiglie del nostro Paese. Le due misure proposte riducono le entrate fiscali per la Confederazione e i cantoni, astimate a 380 milioni di franchi l'anno. Per il Consiglio federale e il Parlamento è tuttavia evidente che l'aumento delle deduzioni per i figli rafforzerà l'economia svizzera e promuoverà la conciliabilità tra lavoro e famiglia. L'accesso al mercato del lavoro risulterà più attrattivo per le madri e i padri e le imprese svizzere avranno a disposizione più personale qualificato svizzero. Per tutti i motivi menzionati, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare sì.